In 5 giorni di alterne possiamo risolvere il problema delle polveri sottili che parte dall'inizio dell'anno. Questa era un'azione che bisognava fare perché stavamo proprio sul borderline e quindi bisognava fare qualcosa. Lo so che era sbagliato farlo una settimana prima di Natale, però penso che la prossima volta bisogna programmare un poco tempo il problema delle polveri sottili e non arrivare sotto sotto e fare queste azioni drastiche. Nel 2016 il prossimo assessore all'ambiente che verrà deciderà lui insieme agli uffici. Io in queste tre settimane che ho preso questa delega ad Interim comunque ho cercato di fare qualcosa, quindi le due domeniche ecologiche e queste 5 giornate di targa alterne. Sono comunque cose impopolari, però noi dobbiamo pensare che comunque i commercianti rappresentano una minima parte rispetto alla popolazione di Avellino. Noi dobbiamo pensare alla salute pubblica dei cittadini e quindi queste erano cose che bisognava fare. Lo so che è coinciso con il Natale e la prossima volta si pensa di farle prima sicuramente. Ma queste non sono domande da fare a me perché comunque è una prerogativa del sindaco l'eventuale ingresso in giunta di altri delegati. Io continuo a lavorare come dal primo giorno, mi sono preso anche in questo mesetto l'interim all'ambiente perché comunque è una delega particolare e lo stesso impegno che ho profuso per i lavori pubblici lo sto mettendo anche in campo per quanto riguarda l'ambiente. L'ambiente non è una cosa che si può decidere dalla sera alla mattina, è una proclamazione come sia da un punto isturbanistico, di lavori pubblici. L'ambiente è una cosa a 360 gradi, bisogna iniziare a fare i controlli di nuovo sulle caldaie, bisogna pensare di rimodulare il trasporto pubblico locale quindi con l'eventuale spostamento del termine all'autobus dal centro delle città, fare una politica di traffico partendo da febbraio e non la settimana prima di Natale. Sono tante cose che fanno sì che poi alla fine non arrivi nel mese di novembre e dicembre con l'acqua alla gola e quindi devi fare queste cose abbastanza impattanti, invadenti. Devono mettere mano alla tasca perché poi in fin dei conti noi abbiamo necessità di reperire un bel po' di fondi per poter pensare di iniziare la bonifica dell'isochimica.